Buon giorno e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano la Puglia è in zona gialla, l'ordinanza del Ministero della Salute entrerà in vigore da domani. Ma quali sono i numeri su cui si sono basati l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute? Tutto contenuto all'interno di un report. Ascoltiamo i dettagli. Un dicembre in giallo, con l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che entrerà in vigore domenica 6 dicembre, si allentano le restrizioni in Puglia. Una decisione presa dopo l'ultima cabina di regia con il Comitato Tecnico Scientifico. Sempre nella giornata di venerdì l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato l'ultimo report sul monitoraggio del rischio, un documento che descrive la situazione in tutte le regioni italiane. Il primo dato è che la Puglia è una delle tre regioni che continua a registrare un aumento dei casi. L'incidenza accumulativa, aggiornata al 2 dicembre, è di 223,14 casi ogni 100.000 abitanti, calcolati su 7 giorni, poco al di sotto del valore nazionale di 245,46. Numeri inferiori a quelli di circa metà delle altre regioni. A fare la differenza, come è noto, è però la disponibilità di posti letto. E infatti, guardando le proiezioni dell'occupazione dei posti letto a 30 giorni, la percentuale di probabilità di superamento delle soglie critiche, se si mantiene invariata la trasmissibilità, resta preoccupante sia per i posti di area medica che per quelli di terapia intensiva. Se si mantenesse lo stesso ritmo di oggi, senza ulteriori incrementi, a gennaio probabilmente le strutture andrebbero al collasso. Infine, il rapporto analizza la letalità. In Puglia si tocca il 4,8% tra ottobre e dicembre rispetto all'1,5% di febbraio-maggio, un dato oggi inferiore solo a quello di otto regioni, ma ben al di sopra di quello di altre, con un'incidenza dei contagi ogni 100.000 persone analoga o superiore. Nonostante la collocazione in zona gialla, la classificazione complessiva del rischio per la Puglia resta alta con ben due indicatori sulla resilienza dei servizi sanitari territoriari sopra soglia. Una valutazione dell'impatto sulle strutture sanitarie anch'essa alta e il trend settimanale in crescita sui focolai. L'incidenza rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere i livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale. Si conclude dall'ultima cabina di regia. L'elevata incidenza e l'attuale forte impatto sui servizi ospedalieri richiede cautela, mantenendo elevata l'attenzione nei comportamenti. Una decisione che abbiamo detto arriva dal Ministero della Salute, però hanno fatto anche molto discutere alcune frasi del Presidente della Regione Michele Emiliano, alcune di queste contenute in tre suoi post pubblicati ieri sulla sua pagina Facebook. L'ordinanza del Ministero entrerà in vigore da domani. Il centro città però già da questa mattina si proiettava al mese degli acquisti natalizi. Nulla di vietato, si intenda purché il messaggio sia chiaro sin d'ora. Tutto si può fare purché si rispettino regole e protocolli di sicurezza, per non trovarsi peggio di prima già dal mese di gennaio. Un messaggio che dovrebbe arrivare prima di tutto dalle istituzioni, molto attenti a conquistarsi il consenso di chi riapre, ma sempre pronte ad accusare qualcun altro quando le cose vanno male. E' il caso del Presidente della Regione Michele Emiliano, che in poche ore, nella giornata di venerdì, ha pubblicato su Facebook tre diversi post che hanno scatenato le ire di molti. Basta leggere i commenti del resto. La Puglia è zona gialla. Questo significa che il nostro sistema sanitario ha retto l'ondata, che nel solo mese di novembre ha portato a 35.000 nuovi contagi. Primo posto intorno alle 20. Non siamo mai andati in zona rossa, è vero, ma i rischi sono ancora altissimi. Secondo posto delle 21. Abbiamo fronteggiato negli ultimi 15 giorni contagi molto alti nella batte in provincia di Foggia. Adesso si sono stabilizzati, ma non escludo di applicare restrizioni a questi territori. E ancora, se fosse stato per me e al mio istinto di protezione, vi avrei chiusi tutti in casa, ma non sarebbe stata la mossa giusta. E infine, non è vero che oggi abbiamo avuto 72 morti, ma solo che oggi sono stati inseriti nei database 72 decessi avvenuti in diversi giorni. Il bollettino, lo ricordiamo, lo invia proprio il presidente Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento per la Salute. Infine, un ultimo posto arriva alle 22. La democrazia implica che chiunque possa dire la sua, ma non credete a tutto quel che leggete. Parole che vanno sulla scia delle dichiarazioni, già rilasciate su Rai 2. Senta, oggi parlano i giornali di una situazione molto grave, preoccupante in Puglia, dei numeri. Che cosa la preoccupa di più in questo momento? Ma mi preoccupano i giornali, non la situazione. Perché i giornali non so perché pensano che per vendersi meglio sia opportuno creare panico. In realtà non è così, i dati sono assolutamente positivi. Abbiamo un RT in discesa molto nitida e soprattutto la capienza ospedaliera è larga. Quindi non ci sono dati di allarme. Io ovviamente non perdo neanche più tempo con i giornali. I tempi del venite in vacanza in Puglia, cui contagi praticamente zero, non sono lontani. La caccia al responsabile, su cui scaricare la colpa, se le cose dovessero andare male, è invece già iniziata. Istituire, nonostante i nove mesi di ritardo, le usca per la cura domiciliare dei pazienti Covid previste da un decreto del Ministero della Salute fin da marzo 2020 a reperire i vaccini anti-influenzali e anti-pneumococcici da somministrare ai tantissimi pazienti fragili pugliesi che reclamano giustamente di essere vaccinati. Sono le richieste dei sindacati CGL, Funzione Pubblica, Medici Puglia, SMI, Puglia, SNAMI e SIMET rivolte in una nota all'assessore regionale della salute per Luigi Lopalco. Apprendiamo, si legge, della volontà del Presidente Michele Emiliano di promulgare un'ordinanza per obbligare i medici ad eseguire i tamponi rapidi. Lo troviamo del tutto inutile essendo già stati obbligati da un accordo contrattuale firmato dalla Finge. La invitiamo piuttosto quale assessore regionale della salute a chiedere al Presidente di emanare un'ordinanza da fare ai direttori generali dell'Asda finché organizzino l'esecuzione dei tamponi ponendo la massima attenzione alla sicurezza. Cambiamo argomento al via le celebrazioni per la festa di San Nicola e le limitazioni di vieti previsti dall'ordinanza comunale per evitare qualsiasi forma di assembramento. Se la Puglia da domani si tinge di giallo e allenta le restrizioni da oggi la città vecchia sarà blindata. Era stato annunciato già da un po', sarà un San Nicola diverso, celebrazioni religiose a porte chiuse, niente cioccolata calda all'alba del 6 dicembre e divieto di ritrovarsi tutti insieme nelle piazze del Centro Storico. Nel dettaglio disposto il divieto di stazionamento a partire da questo pomeriggio dalle ore 16 alle ore 24 fino a lunedì 7 dicembre in piazza San Nicola, Largo Papo Urbano II, Strada delle Crociate, Strada del Carmine, Piazza dell'Odegitria, Piazza del Ferrarese, Piazza Mercantile, Via Venezia, Strada Palazzo di Città e Strada Vanese. E al fine di evitare l'assembramento dei fedeli sulla piazza San Nicola ed altre strade adiacenti o l'avvicinamento alla Basilica, la polizia locale ha disposto già dal 4 dicembre fino all'8 dicembre dalle ore 8 alle ore 22 il divieto di transito veicolare pedonale in piazza San Nicola, Largo Urbano II e Corte del Catapano, divieto che per domani è istituito dalle ore 4 alle ore 24. Misure che sono un ennesimo colpo al cuore per la comunità barese che proprio durante questi giorni si unisce sia per tradizione che per vocazione nei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono, ma necessari per evitare ogni possibile occasione di contagio. E se non si era mai vista una piazza San Nicola così vuota alla vigilia di quel giorno, che ogni anno apriva le festività natalizie, c'è comunque qualche fedele che nonostante le limitazioni non rinuncia ad entrare in Basilica per una preghiera rivolta al proprio amato santo. Certo si perde una tradizione barese che la mattina è le 5, 5 e mezza in cui la gente continua a influire la chiesa, si è persa questa tradizione. Non so fino a che punto riusciranno domani mattina a contenere la piazza perché non è che siccome è una cosa assorda decennia, da centinaia di anni e domani mattina, non lo so, loro dovranno chiudere le strade ma la gente fa fin di non sapere il fatto, io credo che domani mattina arriveranno e faranno fatica a condenerli. E ora ci colleghiamo con la nostra redazione web, Tiziano Tridente, vengo da te. Sì, eccoci Roberto, buon pomeriggio, siamo nella sezione cronaca del nostro sito internet e raccontiamo di un pericoloso cartello di facilitatori del traffico internazionale di migranti smantellato da un'inchiesta della Procura di Catania. Sono 19 gli indagati fermati dalla polizia, alcuni di questi a Bari. L'inchiesta ha fatto luce su quello che è indicato come un anello di congiunzione con gruppi criminali attivi in Grecia e Turchia che agevolavano i migranti nel percorso verso Francia e Nord Europa attraverso una rossa orientale che passa anche per l'Italia. Il gruppo operante a Bari, stando a quanto ricostruito nel corso dell'indagine, si occupava di fornire accoglienza ai migranti presso il domicilio di Sodagel Gruppo o abitazioni messe a disposizione da titolari di agenzie immobiliari. In più forniva ai migranti giunti in Italia documenti giustificativi per il rilascio dei permessi di soggiorno o documenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno già in possesso di altri stranieri presenti sul territorio europeo. Da Bari poi i migranti venivano indirizzati verso le città di Torino e Milano per essere poi inviati a Ventimiglia dove operava il gruppo più nutrito dell'organizzazione. A te. Grazie Tiziano e ora proseguiamo con le nostre notizie. Bari social kids and teens. L'Alvia questa mattina nel campo Rom di Iapigio ha il ciclo di incontri per la promozione della lettura di piccoli con la biblioteca su due ruote. Il servizio di Maria Alessia Sforza. Una biblioteca su due ruote che attraversa la città dal centro alle periferie per portare libri, cultura, istruzione e relazioni lì dove la rete tradizionale delle biblioteche e dei servizi socioculturali faticano ad arrivare. E' il nuovo progetto promosso nell'ambito dell'iniziativa Bari social kids and teen dell'assessorato al welfare. Un ciclo di incontri alla scoperta di storie e di diritti delle bambine e dei bambini nel mondo. Un sostegno al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza ma anche alla rete delle librerie e delle biblioteche. Le attività infatti saranno realizzate a bordo di biciclette elettriche che grazie all'ausilio di un carrellino trasporteranno i libri. Si comincia dal campo Rom di Iapigia ma è ricco il calendario di appuntamenti nel mese di dicembre. L'idea di costruire anche attraverso la lettura e attraverso la narrazione una cultura inclusiva e accessibile a tutti. Oggi è il primo evento qui al campo Rom, sono previsti altri dieci incontri nell'ospedale pediatrico, nel carcere minorile, negli spazi sociali per leggere, negli orti e nei condomini. Sarà possibile eventualmente chiedere di poter vivere l'esperienza della bicicletta su due ruote alla biblioteca dei ragazzi gestita dal consorzio del PEN2 e dal progetto Città. L'idea è anche prestare i libri, donare e arrivare anche a domicilio nei bambini e nelle famiglie o gli anziani soli che in questo momento sono bloccati dall'emergenza sanitaria, dal Covid o sono in obbligo domiciliare. È stato avviato invece questa mattina cura della soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari l'intervento di ripristino di Piazza Santa Maria del Buon Consiglio a seguito degli atti vandalici che qualche giorno fa hanno interessato le colonne e i muri di questo spazio pubblico nel cuore di Bari Vecchia. Grazie alla proposta dell'assessore alle culture Ines Pierucci e della soprintendente Maria Piccarreta, poi condivisa da Don Franco Lazzola, questa circostanza è stata l'occasione per costruire un percorso formativo ed educativo in grado di avvicinare i più piccoli al valore di questo luogo, al lavoro sotto la guida di tre restauratrici della soprintendenza e minori del circolo Anspi o De Gittria Bari-Sant'Annunziata. Adesso ci spostiamo nella sede Amgas con l'intervista al presidente Vanni Marzulli realizzata da Alessandra Bucci. Presidente Amgas si mette in gioco aprendo un canale di comunicazione con i cittadini perché mercoledì partirà una nuova rubrica di Telebari, chiedilo ad Amgas. Amgas è una società pubblica, è una società la cui proprietà è di tutti i cittadini baresi in cui utili vengono riversati all'interno del bilancio comunale e vengono reinvestiti però per opere pubbliche molto importanti. È sicuramente una società trasparente ed è una società nostra, non è una società di proprietà altrui, abbiamo tutto l'interesse ad essere clienti Amgas. Voi ovviamente creeremo un canale di comunicazione diretto con i cittadini, fungerà anche da indagini di marketing per capire qual è l'appeal di Amgas in questo momento ma anche le criticità a cui mettere mano. Amgas in questo momento parte a partire da domani con una campagna di comunicazione nuova, una campagna di comunicazione che nida sostanzialmente alla promozione di Amgas luce perché Amgas è anche energia, non è solo gas. È una campagna che vedremo ovunque, dagli autobus sarà presente su taxi, cartellonistica stradale, saremo all'interno delle televisioni. È sicuramente un nuovo inizio per l'azienda perché intende promuovere in modo molto massiccio la presentazione del marchio, del brand per l'energia. E ora la pagina sportiva prosegue il cammino dell'SSC Bari. Ci colleghiamo da Pagani con il nostro Cristian Siciliani. Sivo, un pomeriggio dallo stadio Marcello Torre di Pagani. Tra pochissimo il fischio d'inizio tra Paganese e Bari. Sfida importante per la formazione di mister Oteri per continuare a restare in scia della Terrana. Servono quattro vittorie sino alla sosta natalizia. Le scelte di mister Oteri che ha cambiato il Bari soprattutto nel reparto offensivo. In porta ci sarà Gigi Frattali in difesa, Celiento, Sabbione di Cesare, a centrocampo Ciofani, De Rizio, Maita e Semenzato preferito ad Orazio. Ma le novità, come dicevo, soprattutto in attacco c'è Antenucci con lui Citro e Montalto. Preferiti a Marras e Dursi. Queste dunque le scelte di mister Oteri per provare a vincere questa partita contro una Paganese che non ha ancora vinto una gara in casa in questo campionato. Il terreno non ci appare in perfette condizioni per la pioggia dei giorni scorsi che l'ha reso decisamente pesante. Però Bari che non ha scusanti oggi deve ottenere assolutamente i tre punti. A voi. Grazie Cristian. Naturalmente seguiremo l'incontro con la nostra Barbara Cirillo. Per ora invece noi ci fermiamo. L'informazione di Telebari si ferma per il momento qui. A tutti un buon proseguimento di giornata. Il meteo è offerto da Oropan. Amici 3D Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà ancora condizioni di maltempo in gran parte dell'Italia. Questa zona di bassa pressione insiste sul nostro paese convogliando vari sistemi nuvolosi. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa dalle nostre parti e come vedete un po' in tutto il nostro paese cielo molto nuvoloso. Un parziale miglioramento come vedremo tra pochi atteso sull'estremo nord-ovest. Soprattutto in termini di precipitazioni. Se controlliamo infatti le piogge previste sull'Italia prenderanno sì il nord ma solo la parte nord-orientale e poi gran parte del centro-sud con fenomeni anche localmente intensi. Attenzione. Quindi in definitiva ci attende una domenica di maltempo un po' in tutta Italia. Solo all'estremo nord-ovest diciamo è previsto un parziale miglioramento. Per il resto nuvole, piogge diffuse anche sotto forma di temporale nelle regioni meridionali. Quindi piogge davvero intense e ancora tanta neve sulle Alpi centro-orientali. Attenzione anche al vento, davvero soffierà sostenuto. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.